Cosa fare se decidi di lasciare casa ma non sai dove andare? In tutte le grandi città ci sono dei centri di accoglienza per le donne. Se una donna decide di lasciare la propria abitazione con o senza i figli, può farlo e ha tutto il diritto di farlo. Ci sono diversi centri temporanei. Se desideri di avere informazioni al riguardo, chiama il numero cantonale per il sostegno delle vittime di violenza domestica. La chiamata è gratuita. Bada che se la situazione diventa insostenibile e pericolosa, bisogna chiamare la polizia al 117. L'autore delle violenze può essere allontanato dal domicilio. Violenza? Basta! 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 Grazie a tutti.